La droga tra i giovani La droga tra i giovani Iniziano sempre prima Che non si parli di cose che succedono nella fantasia O nei film americani Ma che sono fatti di cronaca di tutti i giorni Sia lo spaccio fuori dalle scuole E poi dopo il consumo anche dentro Sia l'azione delle forze dell'ordine Viene testimoniato da una vicenda di due giorni fa A Pistoia E su cui Vittorio Betti ha fatto il solito ottimo servizio Che vi facciamo vedere a modello Di quello che succede poi quotidianamente Nelle nostre città Alla luce del sole vendevano fazzoletti Bracciali ed accendini Oppure facevano i parcheggiatori abusivi In realtà erano dei veri e propri spacciatori Che operavano nei pressi di scuole Adescando agli studenti spesso minorenni Sei cittadini extracomunitari Di etnia nigeriana Scoperti e arrestati Dalla squadra mobile di Pistoia Le dosi erano confezionate In palline termosaldate Trasportate nella bocca Riuscire a individuare Questi sei spacciatori medi Che spacciavano nella zona Della stazione O nella zona di via Pertini Dotto tra l'altro Ci sono anche degli istituti scolastici Riuscire Insomma a incastrarle Alle loro responsabilità Le immagini video realizzate dalla polizia Documentano di un traffico fiorente Quotidiano Come dicevamo Proprio davanti anche A istituti scolastici Non a caso Il magistrato competente Ha contestato l'aggravante Per essere fatto Lo spaccio vicino alle scuole E anche per avere spacciato A dei minori Eseguite anche Tre perquisizioni domiciliari Sequestrate diverse dosi Di stupefacente Già pronto per lo spaccio Il 13 gennaio scorso Sempre a Pistoia Era stata arrestata In flagranza di reato Un'altra cittadina nigeriana Ma le indagini Non si fermano qua I cittadini Di etnia nigeriana Sono collegati Più o meno In un contesto Che possiamo anche Equiparare Con le dovute Differenze Anche alle organizzazioni Criminali Nostre e meridionali Quindi Durante le attività Di perquisizione Eccetera Sono stati trovati Numerosi Elementi Telefonini Schere telefoniche Di situazioni varie Sulla quale Si lavorerà E si cercherà Di ampliare Un po' L'indagine Bene Succede Abbiamo detto tutti i giorni Peccato che non si siano viste Le facce Perché Siccome erano mischiate A facce di gente comune Ovviamente La questura di Pistoia Ha avuto la cautela Di non farle vedere Ma a certe facce Da caglioffi Sarebbe bene Vederli In maniera anche Da riconoscerlo Professor Pallanti Al volo Quell'osservazione Di Alice Prima È molto vera E anche molto preoccupante Si sta abbassando Sempre di più Come l'alcol Così anche la droga Per andare a rovistare Anche nei cestini Delle scuole medie Purtroppo Sì Questo è anche Un dato statistico Che ci sia Un esordio Sempre più precoce Di questi comportamenti Ma quello che mi Sembra Che risultasse Anche chiaro È che C'è stata la sorpresa Da parte di questi studenti Di vedere Diciamo L'interesse Della polizia Per un'attività La quale purtroppo Si è abbastanza abituati Abituati al punto E la si immagina Anche nella scuola media inferiore Cioè Non c'è la percezione Fra gli elementi Che perpetuano Diciamo Questi comportamenti C'è la marcata percezione Che Usare queste droghe leggere È un reato Per esempio Portare queste sostanze Da scuola È un reato E così come Non c'è la percezione Che queste sostanze Facciano davvero male Perché Si sente parlare Per esempio Di usi medici Della marihuana Allora Si ha l'impressione Si parli della stessa cosa Anche qui Bisognerebbe approfondire E capire Che un conto Sono Alcune sostanze Ricavate Dalla marihuana Un conto È la marihuana Così come viene fumata Bisogna andare più a fondo Perché se non c'è la consapevolezza E che i danni arrivano Perché queste sostanze Hanno questo effetto Sul cervello E che questo è un comportamento Illegale E i motivi Per i quali è illegale Non perché Semplicemente C'è un regolamento Che lo vieta Ma perché Si è ritenuto Che questo Possa proteggere No Le persone Dalle conseguenze dannose Quindi Sottosegretario Toccafondi C'è Come diceva lei All'inizio Anche un Fronte educativo Molto importante In cui le istituzioni Sono impegnate Giustamente Il professor Ararte Diceva prima Anche noi Siamo stato Come lo sono L'uomini in divisa In questo caso Più nella veste Ovviamente Di educatori Ma La conoscenza Qui Conoscere E sopravvivere Anche Sapere Non è potere In questo caso È potere Evitare Dei danni Quindi Il fronte Anche della riforma Della scuola Dell'educazione È un fronte Fondamentale Un bel serbatoio Per gli spacciatori Ma anche un bel serbatoio Per gli educatori Assolutamente Sì Diciamo Ai miei tempi Lo spaccio Avveniva Nella piazza C'era una piazza Che era Più o meno Conosciuta Qualche locale Adesso rischia Che la nuova piazza Per gli spacciatori Sia proprio la scuola Cioè il mercato È lì E quindi Ruotano intorno E anche dentro La scuola I dati Che ci ha dato Anche la questura Il 50% Delle visite Delle visite All'interno Contro il colesterolo C'è come intervenire C'è come intervenire Cani sì Cani no L'ho detto prima È una parte Della risposta La presenza Delle forze Dell'ordine Dei cani antidroga All'interno È una parte Ma è risposta Io su questo Voglio essere chiaro Non si può dire Che la presenza Come vediamo Nei filmati Di cani antidroga E insieme a Uomini in divisa Non sia una parte Della risposta L'altra parte Della risposta Sono d'accordo Con il preside È data A tutti noi E qui dobbiamo fare Squadra Per entrare Dentro le scuole E in buona parte Lo stiamo già facendo Ma continueremo Aumenteremo Queste possibilità Per spiegare Ai ragazzi Medici Ragazzi Che stanno uscendo Da quella piaga ASL CERT Varie associazioni Forze dell'ordine Magistratura Per spiegare Che cos'è la droga Che cosa fa Nella vita Dei ragazzi Che poi diventano adulti Se Andiamo Di pari passo Con queste due azioni Il problema Lo affrontiamo Altrimenti Ci voltiamo Dall'altra parte E magari Discutiamo Sul tema Del colesterolo Assolutamente D'accordo Dicevo Non perdete Vedetevi Fra qualche minuto Nel prossimo blocco L'intervista Ad Ostinghi Un sacerdote Da sempre In prima linea In questo Fronte di guerra Vittorio Un breve sondaggio Con i tuoi ragazzi Del Saffi Ecco Loro Quanto ne sanno Di quello che diceva Anche prima Il professor Pallanti I danni La differenza Che c'è Tra la marijuana Che danno A careggi E la marijuana Che si fuma Cioè Qual è il loro livello Di informazione Di formazione E poi Dopo Chiederemo Anche ai professori Al preside L'ha Il professor Arte Chi è che poi Chi glielo può spiegare Perché per spiegare Bisogna sapere Allora Intanto Salutiamo Niccolò e Matteo Che ci hanno raggiunto Qui in Pole Position Ma poi andrò io Dietro le quinte In seconda linea Per sentire Niccolò Hai sentito la domanda Del direttore Canè Prego Sì Purtroppo Penso che Il tema Della droga Se non In questo caso Non sia Quasi mai Affrontato A scuola A livello Di Istruzione Nel senso Di mettere Gli studenti A conoscenza Dei danni Che può provare La droga Ecco Quando dici questo Intendi dire Anche durante le lezioni Cioè una sorta Diciamo Di giornata Magari particolare O di una finestra Che si apre Su questi argomenti Assolutamente Sì Penso che sia Dovere E diritto Del preside Di contrastare La diffusione Di questo fenomeno Anche tramite Questi eventi Allora bisogna Ecco Voglio sentire Matteo Se è d'accordo Su questo argomento Poi così Convolgiamo Anche la professoressa Lazzeri Prego Pienamente d'accordo Con quello che ha detto La Nicolò E anche Con le iniziative Fatte dal preside Anche perché Oltre a essere Un segno Di serietà E anche un segno Di sicurezza Per tutte le persone Per tutti gli alunni Che studiano Appunto In questo istituto Ecco La professoressa Lazzeri Magari non so Se è in quest'aula Quotidianamente Ma comunque In una di queste Misura anche un po' La temperatura Di questo problema Se ne parla Professoressa Se ne parla Se ne parla Ma non molto All'interno Delle classi Forse se ne dovrebbe Parlare Ma perché questo Secondo lei Il problema Purtroppo All'interno Della scuola All'interno Delle singole materie Dove Ci si preoccupa Più del programma Tranche Di aspetti Più Educativi Relazionali Del sociale quotidiano Diciamo Però Che All'esterno Della classe Ci sono degli spazi Dove vengono affrontati Questi problemi Io condivido Pienamente Il problema Di affrontare La droga Non è solo Quello Della repressione Ma quello Dell'educazione Dell'informazione E più che altro Di intervenire All'interno Della scuola Sui disagi Prima che Questi disagi Si manifestino Con assunzioni Di droga Ecco Però c'è un problema Che sentiremo Più avanti Anche nei sondaggi Direttore Che abbiamo realizzato Per le strade Di Firenze Che spesso Ci si avvicina Anche a questo Aspetto Della droga Perché A fa moda B perché Stiamo insieme A una compagnia Perché se non lo fai Gli altri Lo fanno Noi siamo meno bravi C'è questo sentore O no Perché Voi vivete anche Una vita Tra giovani Non solo in aula Ma anche Soprattutto fuori Il problema Penso che In questa età Sia anche Abbastanza naturale E penso Faccio anche Da un certo punto di vista Bene Venire a contatto Con queste realtà Perché comunque Insegna in qualche modo Ad affrontarli In maniera Più o meno Consciente Per il resto Io personalmente Ho imparato A socializzare Insomma A divertirmi Con i miei amici In maniera diversa E poi ci si può divertire In una maniera diversa Assolutamente Gabriele c'è il professor Morelli Che ha una cosa Proprio in un flash Poi magari ci torneremo Nel prossimo collegamento Perché Porta avanti Anche un progetto Un po' particolare Con una realtà italiana Che si fonda Quotidianamente Nel recupero Soprattutto di tanti giovani Che sono Preda della tossicodipendenza E cioè la comunità Di San Patriniano E così Professore Prego il microfono Sì da quest'anno Abbiamo iniziato A collaborare Con Questo istituto Che cosa fate in concreto Allora Innanzitutto Il 5 maggio Avremo La compagnia teatrale Di San Patriniano Che verrà Durante un'assemblea Degli studenti A fare uno spettacolo Nel quale Illustreranno Diciamo Il loro Soprattutto racconteranno Le loro storie Il loro modo Di aver vissuto E di vivere Tutt'ora Sia la droga Che il periodo Diciamo Di riabilitazione E poi È intenzione Nostra Di continuare Questa collaborazione Già dal prossimo anno Con interventi Proprio di ragazzi Che Lei sa che molte scuole Vanno anche a San Patriniano E vivono magari Un periodo di tempo Una settimana didattica È uno degli obiettivi Di questa scuola Per il prossimo anno Nel mese di ottobre Organizzare delle Visite didattiche Chiamiamole così Presso la comunità Di San Patriniano Ma soprattutto Come diceva Alice Volevo riallacciarmi A quello che diceva Alice Soprattutto per i ragazzini Delle prime classi Alice è stata Molto brava Secondo me A puntualizzare Quel discorso Che credo Stia molto a cuore Gabriele Anche al sottosegretario Toccafondi Perché Insomma Quando si parla Di scuole medie Si parla dai 12 ai 14 anni E ci inquieta questo È l'età Nella quale Iniziano i primi contatti Con questo mondo Per cui bisogna Intervenire Quanto prima Bene Gabriele Grazie Grazie Mi hanno sentito Cose molto interessanti Professor Ararte Ma Come si può Inserire L'educazione Anni fa Fu introdotta L'educazione civica Materia Consentitemi La parola Completamente svaccata Non so che cosa Si insegni La Costituzione Forse poi Sappiamo neanche più noi Qual è la Costituzione La cambiano ogni due Per tre Quindi In che materia In che contesto Nella chimica Per gli effetti Cioè Effettivamente Noi adulti Ma a maggior ragione I ragazzi Ne sappiamo pochi Poco E per insegnare Bisogna che il docente Sappia E che abbia Anche uno spazio In cui Come si potrebbe Infilare Dopo Obblighiamo Il sottosegretario Toccafondi A farlo Nella riforma Della scuola Che stanno Per varare Io sono d'accordo Con quello che diceva L'insegnante Del Zaffi Dobbiamo Accettare Che a scuola Non si fa solo Matematica O italiano E che questi temi Sono temi Che interessano Chi fa educazione Nella scuola Quindi la scuola Deve riuscire Intanto a sviluppare Maggiori competenze E conoscenze Fra gli adulti Che stanno intorno ai ragazzi Quindi Prima educare Gli educatori Prima educare gli educatori Noi dirigenti Gli insegnanti Le famiglie Devono avere più Conoscenza E competenza Di questo mondo Per intanto Riconoscere Il ragazzo Che ha un disagio E poi capire Come intervenire Quindi Decidere che questa cosa Interessa la scuola Quindi che non si fa solo La disciplina E capire come sviluppare Le competenze Io continuo a pensare Che la parola chiave Sia la relazione Cioè Riuscire a Guardare in faccia I nostri ragazzi Costruire un rapporto Per cui tu capisci Che cosa sta succedendo A quel ragazzo E decidi Dei modi di intervenire Sottolineo due cose al volo Primo L'informazione è fondamentale Ma attenzione Perché l'informazione Non è sufficiente La gente in questo paese Fuma pacchetti di sigarette Dove c'è scritto Che provocano il cancro E lo sa E continua a fumare L'altro giorno Era un dibattito In cui una ricercatrice Raccontava Che un ragazzo Le ha confidato Che ha iniziato A fare uso di sostanze Dopo aver ascoltato Un'esperta Che gli ha spiegato L'effetto delle sostanze Quindi è un passaggio Un po' difficile Al mio giudizio E chiudo su questo Il mio intervento Bisognerebbe parlare Di più di agio Parlare di disagio E diventare tutti esperti Più di disagio Ma anche capire Come si può Favorire E promuovere Il benessere dei ragazzi Perché soltanto Se riusciamo A dare ai ragazzi Un motivo Per non fare uso Di sostanze Quindi coltiviamo Una passione Un interesse Riusciamo a tirarli fuori Da lì Perché se soltanto Ci fermiamo A dirgli Non va bene Una cosa sbagliata Questo evidentemente Non serve Non è sufficiente Sì È un allargare Ancora di più I compiti Della scuola A cui già noi famiglie Tendiamo ad attribuire Un ruolo A cui noi spesso Abbiamo abdicato Ma a scuola Non ti hanno insegnato Sì Ma potevi insegnarglielo Anche tu a casa No? Invece a casa Adesso tendiamo A scaricare Sulla scuola Il suo discorso È giusto A 360 gradi Poi mi rendo conto Che operativamente Più si allarga Più diventa difficile Sarebbe già tanto Che gli insegnanti Conoscessero Avessero tempo Il modo di essere Formati E avessero poi Che trovassero Gli spazi Nella scuola Per educare I ragazzi Questo aiuterebbe Anche voi Vicequestore In quella che è La parte Repressiva Del vostro lavoro Che come ha spiegato Non è l'unica Che tipo di ragazzi Avete a mano Quando Li pizzicate In costanza Di un areato Perché poi Fumare uno spinello Non è un areato No Fumare uno spinello Non è un areato È un illecito Amministrativo Dal 1990 Quando La modifica Della legge Sulla droga precedente Fece Introdusse Questo Illecito Ma Io Se permette Rettore Volevo prima Rilacciarmi Al discorso Che faceva Il professor Arte Perché Condivido Le sue Le sue idee Su questo aspetto E noi Fra l'altro Anche nel rapporto Relazionale Sia il rapporto Relazionale Che c'è E ci deve essere Nel trasfero educativo Tra professore E studente Questo è ovvio Ma anche nel rapporto Che Si può instaurare E si deve instaurare Noi cerchiamo di farlo Perché non abbiamo Solo una parte Diciamo Repressiva E di controllo Abbiamo anche una parte Che Viene svolta Dalla divisione anticrimine Della questura Dall'ufficio minore C'è un ufficio minore In questura Ma magari Pochi lo sanno Anche voi Potete partecipare All'ufficio minore E lo stiamo E lo stiamo facendo Lo stiamo facendo Perché noi abbiamo Sulle dipendenze In generale Sulle dipendenze Un progetto Che stiamo portando avanti Dall'inizio dell'anno Che si chiama Il tempo che vorrei Ed è un progetto Che facciamo Nelle scuole Dalle scuole medie Partiamo dalla terza media E arriviamo E arriviamo fino Al liceo Alle scuole superiori Dove Cerchiamo di individuare Con i ragazzi Quali sono i fattori Di rischio Nell'utilizzo Cattivo utilizzo Del tempo libero Tra cui Le dipendenze Dalla dipendenza Da stupefacente Alla dipendenza Molto rischiosa Per i ragazzi Di quella età Fino alla dipendenza Dalla rete Che anche la dipendenza Dalla rete Con gli esperti De la polizia postale Facciamo spesso Questi incontri Nelle scuole Fra l'altro Una cosa importante Che facciamo E che a fianco Di questi incontri Per cui abbiamo Moltissime richieste Facciamo anche Incontri con i genitori Nella fascia serale Molte scuole Ci chiedono Di incontrare Anche i genitori Per poter Parlare con i genitori E trovare insieme Una strategia comune Per affrontare Il problema E facciamo anche Incontri con gli insegnanti Perché spesso Gli insegnanti Magari Hanno anche bisogno Di sapere Quali sono I loro Diciamo I risvolti Anche giuridici Del loro Operato Su questi Settori Su questi temi E' importantissimo Quello dicevo prima Appunto anche i genitori Anche perché poi Adesso spesso i genitori Lo sanno bene I poveri insegnanti Vanno a scuola E presumono Di insegnare Agli insegnanti Come si insegna Greco, latino E anche Come si insegna La prevenzione Agli stupefacenti Comunque le do un dato E chiudo Le do un dato Che penso Che sia un dato interessante Noi L'anno scorso Abbiamo avuto Su questo Lavoro Che facciamo Sulle dipendenze Una richiesta Da 18 classi In 6 istituti Parliamo di Firenze Parliamo di Firenze Stiamo parlando Della città di Firenze Ma è qualcosa Lo facciamo anche Nei comuni Nei comuni Della provincia 2013-2014 Sono stati questi dati 2014-2015 Quest'anno Abbiamo una richiesta Da 27 classi In 8 istituti C'è stato Quasi un raddoppiamento Della richiesta Di incontri Su questo tema Che è appunto Il tema delle dipendenze Non solo Della dipendenza Da stupefacenti Ma delle dipendenze Esigenza Di conoscenza C'è Sottosegretario Toccafondi Anche Anche lei Voi state Avviando un progetto Al di là Della riforma scolastica E dell'attenzione Che poi lei Personalmente Tiene Sull'argomento C'è anche un progetto Che sta per partire Che coinvolgerà I ragazzi Della provincia Di Firenze Li fa Istruttori Di se stessi Assolutamente Sì Prima lei Richiamava Il ruolo fondamentale Dei genitori Io ricordo sempre Che la scuola Può E deve fare molto Ma non può niente Se non C'è questo Patto educativo Che la Costituzione All'articolo 30 Ci richiama Il diritto Dovere dei genitori Istruire ed educare I propri figli Quindi la scuola Può tanto Ma Può molto di più Se c'è una collaborazione Stretta Con i genitori Noi abbiamo Già fatto molto Perché Quello di cui Stiamo discutendo Lo abbiamo Messo in atto Da settembre Con una precisa Volontà Dell'ufficio scolastico Regionale Della Toscana E come ministero In tutte le province Stiamo parlando Soprattutto di Firenze Ma abbiamo visto Il servizio a Pistoia Potremmo parlare Di Lucca Di Pisa Di Arezzo C'è questa azione Di presenza Dello Stato Con le forze Di polizia Fuori Dai pressi scolastici E Una volta chiamati Dai dirigenti scolastici Dai presidi Anche all'interno Delle scuole È data Da un piano E da una Richiesta Del ministero E dell'ufficio scolastico Regionale Però non ci vogliamo Fermare qui Rispetto molto L'autonomia scolastica Che è Una forza Perché abbiamo visto Oggi Il vice questore Ci ha dato Alcuni elementi Che dimostrano Che le scuole Già fanno Autonomamente La collaborazione Del Saffi Con San Patrignano Non è solo Del Saffi Quindi è Il segno Che le scuole Si muovono Anche col passo Successivo Alla repressione Ovvero Quello Dell'educazione Noi vogliamo Dare un ulteriore Stimolo Alla discussione Perché la prossima Campagna Pubblicitaria Contro L'uso Delle droghe E l'abuso Dell'alcol Vorremmo Che fosse fatta Dalle scuole Dalle scuole Superiori E medie Per questo Come ufficio Scolastico Regionale Come ministero Dell'istruzione Abbiamo previsto Questo bando Che partirà A breve Tra pochi giorni Perché Sarà Dato A tutte le scuole Della provincia Di Firenze Lo impadriamo Meglio Questa idea Saranno Gli studenti Elaborare Le loro idee Di slogan Con cartelloni Messe a disposizione Delle amministrazioni Comunali Della Toscana Dalla regione Toscana E poi Collaborazione Con la collaborazione Proprio Di questa emittente Della nazione E di radio Toscana Gli slogan Contro gli abusi Verranno E contro le dipendenze Verranno fatti Creati Dai ragazzi E per tutto L'anno scolastico 2015 2016 I veri protagonisti Saranno proprio I ragazzi Insomma Noi abbiamo iniziato Ma non abbiamo Assolutamente Intenzione Di fermarci Bene Bene Questo è molto importante Noi invece Ci fermiamo Due minuti E ci ritroviamo Alla priscatole Fra due minuti Non ci lasciate Perché abbiamo Questa Interessantissima Intervista Don Stinghi Perché Finché si chiacchiera Si chiacchiera Ma quando si lavora In mezzo ai ragazzi Che hanno dei problemi Come ci spiegherà Poi anche Il professor Pallanti La vita è molto diversa E molto dura A tra poco Con la priscatole